segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te abbiamo questo servizio di rubortone che ci racconta proprio questo gli screzi tra berlusconi e giorgia meloni lo vediamo perché lì c'è una frase che ci è tornata alla memoria quando berlusconi disse sentiamolo non c'è stanto mai una distanza tra noi e la signora meloni mio figlio ha un rapporto di amicizia il suo uomo lavora mediasette mi pare che mancassi un punto però a quelli elencati da berlusconi che non sono ricattabili consiglio dei ministri ha approvato diverse misure capisco le motivazioni la più importante delle quali secondo me è la tassazione sui margini ingiusti delle banche ma non sono sufficienti a superare le grandi perplessità che ho sia il metodo che sul merito tutto rispetto non posso considerare marina berlusconi un soggetto della coalizione non è un soggetto politico qui aldo abbiamo provato appunto a rimettere insieme le ultime gli ultimi momenti in qualche modo di scontro o di confronto tra berlusconi la famiglia berlusconi forza italia e quella che è la linea della meloni secondo te in